Musica 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 Benvenuti a tutti in scuola e persone Benvenuti in questo nuovo video Io sono SESFACCIATI di Teletrae Sandsharks Oio siamo qui su Overwatch E stiamo su... Questa mappa che non bani E' la continua della partita dell'altra volta E quindi sto sono lì per E vediamo come andrà Vediamo come andrà Secondo me Ci vediamo molto mazzaglio Però Solo una... Ma quella... non ha sforzato niente Che schifo il perso Vi ricordo che c'è sempre un casino a casa Quindi se sentite... Ah che bello, ah che bello E' perchè c'è un cane in casa che non è il nostro Quindi Che c'è un... 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 La sua bella Odis C'è più sicuro C'è più sicuro Non cosa... andata qua Che... è morto Bravo rino Aff... 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 Che mi cosa deve fare Allora... Mi ha arrivato da... da sopra Che fosse da sopra Non c'è nessuno Che è qui... Ma deve terse volunteers... Oh guardata qua- Ma quella clever... La coming... Eh mo Nascuzione... Ui... Immagino Uii.... no stanza ahahah buona la prima me lo cura dove sta lì 6 ma insano ha spettato entrato nella cinque altri un dato con me questo vuole aiutare perché no musica lui il bus di merda mi sono bloccato all'angolino non capisco cane martello mi ho ucciso con l'ultima seramente raga stiamo perdendo contro questi qua ma io non ci posso credere stiamo a perdere contro questi testi quello che mi ha ultato per uccidermi buon l'ultima mi vado da sopra ulti pronta mi sa fare dai 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 stanno dai ma sto lagando o what hai iniziato a laggiare tutto qual è il problema qual è il tuo problema perchè devi lagare tutto non devi lagare che bella è solo 3 secondi cazzo non ce la farò mai veloce 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 ok quando vuoi di acqua dai tu. 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 anche il nostro anche il nostro punto nice ora li vado da dietro mi beca sotto sulla statua acqua lascia 4 no non aveva visto il chip 4 stronzo mai ha visto mi mi aspettavo non sapevo che veste che fosse ancora giuro il giusto ho detto anche sto giocando veramente a 6 9 chi schifo oh oh morite sabato la face passato riferimento l'uncente analga ok 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 Perchè attaccano già la mente, entro quel coso, la porco, perfilato, andiamo ad andare là sopra, è possibile, è morta, no no no, e poi l'ha ultato solo per Zaria, nice, devo scappare, devo curare, devo uccidere questa qua, ammazzata sta scema, che, ho ucciso, vabbè però ho ucciso emersi, ah, alla ultiana, quindi se riesce a ultare se riuscisse a ultare Reynard, poi un tank giù, un Krat, perfetto, facciamolo a Wombo Combo, finisce, e sa che questo video durerà per tre partite, perchè ci sarà anche l'altra partita, facciamo un po' eh, dai dai, muori, perfetto, non possiamo prendere questa ragazza, dai bu sta Reynard, nice, sa uscire, bitcoin, si, ucciso, uccisione, merci ce n'ho fa, si questo è l'importante, che questa è dai 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 muore muore un metro un metro è una virgola solcolicata dai metro è è un dito il nice ragazzi però la terza partita cioè ve la faccio vedere sempre in questo video c'è in una potenza però il 9 un minuto l'anno non lo vanno due minuti a più di tutti i due minuti loro cazzo 2 minuti 49 sono loro se sembra attaccare dobbiamo prendere champion più veloci ma riperla finissima seconda a me quel giugno che c'è proprio c'è c'è un po di ventini attacco mentre non li preferisco l'unica e forse può essere forte secondo me se si usa me in attacco si si fa anche andare con me però con giunta con i guido amiche quelli che usano anzo anzi attacco perché cos'è visto io sanatina uno streaming di uno ma top 500 con wino maker in attacco ovviamente la pezzi io non lo so con i guido amiche perché non è assenza una cosa del genere se lei è stata fatta per la difesa fate a difendere quella poverina io non ho senso una cosa del genere vabbè e se non ci fosse un cuoco il giugno un cuoco il giugno se avesse preso un tank o tipo diva o cosa del genere sarebbe stato molto meglio dunque mi sa che se conquistiamo il primo avanti e direttamente vinto il sangue non lo so o ma che cazzo è mo tra lì tra corsa e e giunta hanno una torretta facendo qua dentro c'è una torretta lì giù un crassettente bravo giù un crassettente bravo giù un crassettente vado narcosia cinque anni e mezzo a dormire ah questa è buono men ma per solito bella corretta oh giù un crassettente caccia ecco questa cosa non non in se non 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 buoni ma insieme e marone ricordato calcato stava a fare una cosa bellissima non so come sono molto mi ha bruciato giunto per fare non questa è qua la strontani la nipat know no 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 è stata hermese adesso si può diritti pochi chiusa perché ok notizie scopo c'è cosa per cui non ti ha avuto il capo costante sono i a c'è un'evento ascolta la patata cc ando Ehi, questa è semattiva Se i cambi di live, c'è ma, anche area Detti questa, la teoria di circola Tra 30 secondi Eh, prima di bastare, ecco, c'è che se c'è bastion ci sfondano con una merda Troppo, siccome bastare, ne face da chillare Se basta è che siano un po' bravi Io, dunque, dunque, no Vado a chillare quello là, l'anico mio Ecco, giù Tutti morti, no Tutti morti, no Niente, ragazzi Eh, come ha detto l'amico mio, è un moto bastion Bastion si è messo in un posto, è veramente in merda, diciamo E ora, per arrivare là, non ci vuole niente Perché a contrastare quel punto è impossibile Anche perché lo spawn è a 3 km di distanza Ci vorrebbe una simmetra Ma simmetra da inizio lo devo prendere, ragazzi Forse, devo prendere in simmetra Con simmetra ora, potremmo stare avanti là, subito, ogni volta Tutti morti Eh, gli dico Non ha l'ultimersi Eh, niente, hanno avuto l'ora Eh, vabbè Ci rivediamo Bella, bella, bella Grazie a tutti Grazie a tutti.